Visto che si tratta di un mondo molto maschile, scegliamo qualche donna, si chiama Clodia, ma è meglio nota come lesbia, la donna che viene incantata da Catullo. Laura Pepe, qual è il suo personaggio preferito nella storia di Roma? Dunque, il mio personaggio preferito è sicuramente una donna, perché visto che si tratta di un mondo molto maschile, scegliamo qualche donna, ed è una donna che, se le dico il nome, forse è un nome che non dice molto, si chiama Clodia, ma è meglio nota come lesbia, la donna che viene incantata da Catullo, che non era esattamente il prototipo della romana perfetta, che stava a casa a fare la tela e lavorare la lana. Era una donna evidentemente molto emancipata, diremmo noi oggi, che aveva il pregio di essere amata da Catullo, quindi quale cosa migliore, soprattutto anche di essere un po' detestata da Cicerone. Siccome io non ho molto in simpatia a Cicerone, il fatto stesso di essere appunto detestata da Cicerone mi pare un buon punto di vantaggio. Apparteneva a una famiglia romana, insomma, abbastanza importante, suo fratello era un uomo politico che aveva molto a che fare con tutti quanti gli uomini politici del tempo, era Claudio, un adorno appunto che forse preannunciava un po' i tempi, è quello che sarebbe stato. Roma ha una storia millenaria, viene spesso definita una città che in realtà è un museo a cielo aperto. Questo è un vincolo o è un'opportunità oggi per questa città? No, non è un vincolo, è assolutamente un'opportunità. Sarebbe anche bene valorizzarle di più le opportunità che a Roma. Io credo che non ci sia nessun'altra città del mondo che vanta una storia e una ricchezza come quella appunto di Roma. Il problema poi è che come, insomma, i recenti episodi di cronaca hanno messo in luce, forse non si è consapevoli della ricchezza che Roma ha. Mi riferisco in particolar modo a quell'episodio successo all'inizio dell'estate in cui è stato sfregiato il Colosseo. La persona in questione, dopo aver fatto pubblicamente del suo gesto, ha detto non sapevo che si trattasse di un monumento così tanto antico. Quindi, appunto, magari se si sfruttasse l'opportunità di valorizzare questo patrimonio, forse ne guadagneremmo tutti quanti. E l'ultima domanda. Un film, un libro, un luogo meno noto, magari, che però ci racconta Roma e può far conoscere la capitale? Dunque, io sul luogo direi che se già iniziassimo a frequentare di più o meglio i luoghi celebri, saremmo già a buon punto. Su un film, uno che mi è rimasto nel cuore è Il primo re, con la ricostruzione del latino arcaico che è stata fatta dai ricercatori della sapienza, che è un'operazione straordinaria. Per quanto riguarda il libro, a me piace sempre ritornare alle fonti e di conseguenza non tanto andare alla letteratura odierna e moderna e contemporanea, soltanto rileggere l'Eneide e trovare la bellezza di quel libro che parla appunto di una Roma quando ancora Roma non era stata fondata, che ci parla di un Enea, di un eroe che viene da lontano e che si mescola con altri popoli per fondare un popolo. Secondo me lì c'è già scritta tutta quanta la storia di Roma, anche se Roma non esisteva ancora. Secondo me lì c'è già scritta tutta quanta la storia di Roma,